Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova, ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Io sono completamente estraneo i fatti e proprio per questo do le dimissioni, per potermi anche difendere in modo più tranquillo. Massimo Bordin rassegna le sue dimissioni, l'annuncio questa mattina tramite comunicato stampa. La decisione arriva a seguito della tensione degli ultimi giorni dovuta all'inchiesta sulle tangenti nei comuni delle Terme. Un gesto di correttezza e di rispetto verso tutti i cittadini di Montegrotto, scrive, sebbene l'idea sia maturata prima di tutto da una profonda delusione. Questa non è più politica, è qualcosa che va oltre la politica e si sta lavorando più, non tanto sulle idee, ma si rovesciano le amministrazioni in questo modo, senza vincere la competizione dei cittadini. Nel frattempo in mattinata il sindaco ha ricevuto un'altra visita della Guardia di Finanza per un nuovo controllo, proprio mentre Bordin trascorreva le sue ultime ore nell'ufficio di Piazza Roma. Il sindaco rimarrà in carica ancora una ventina di giorni, dopodiché se non ci saranno ulteriori sorprese, in municipio arriverà un commissario prefettizio che guiderà il comune fino alle elezioni del prossimo anno. Con Bordin indagato anche il sindaco di Abano, Luca Claudio, con il quale si è sentito pochi giorni fa. Ci sentiamo, io glielo ho detto l'altro giorno, sto prendendo questa decisione, non so, lui mi ha detto sì, beh, vedi tu. Rimane, almeno per il momento, agli arresti domiciliari Ivano Marco Longo, assessore della Giunta Bordin, sorpreso in flagranza mentre prendeva una bustarella. Mi hanno detto che è già fuori, praticamente, che mercoledì comincerà ad andare al lavoro, cioè questa è una notizia che mi ha veramente sballordito. Per Terri Agaga, profugo proveniente dalla Nigeria, la tragedia non si è consumata in mare. La sua vita è stata spezzata da una lite all'alba di questa mattina, all'esterno di un locale di via Vigonovese. 35 anni e con un regolare permesso di soggiorno ottenuto per motivi umanitari, Terri Agaga era in Italia da settembre dello scorso anno, ospitato dalla residenza Leopardi di Padova. Questa notte si trovava nel locale afro di Kamin, quando pare sia stato coinvolto in una lite poi degenerata. Ad avere la peggio, proprio il nigeriano, che è finito a terra con un buco nella gola, forse provocato dal vetro di una bottiglia. Il 35enne avrebbe anche cercato di scappare prima dell'arrivo dei sanitari del 118. L'uomo però non ce l'ha fatta, è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri che si stanno avvalendo anche delle testimonianze dei pochi presenti al momento del delitto. Intanto il via vai delle forze dell'ordine questa mattina si è fatto notare soprattutto da chi in via Vigonovese ci lavora tutti i giorni e che non riesce a rimanere indifferente a quanto accaduto. Pochina di paura c'è sicuramente, furti nelle case e a bizzeffe. E senti una roba del genere, un attimino la pelle d'oca ti viene, assolutamente. Le materne paritarie avanzano dalla Regione 95 milioni di euro di contributi. Lo ha detto ieri sera Alessandra Moretti, candidata del centro-sinistra alla Presidenza della Regione Veneto, in occasione del convegno Scuola dell'Infanzia Paritaria, quale futuro per i bambini che si è tenuto in municipio a Tombolo. Moretti ha rilanciato e a fronte del debito nei confronti delle paritarie ha proposto ieri la sua riforma per la scuola, simile a quella già attuata dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede l'istituzione di un rimborso mensile ai centri per l'infanzia. Serve in coinvolgimento dei comuni e degli enti che gestiscono le scuole paritarie al fine di definire obiettivi condivisi anche a livello regionale. I finanziamenti, che ogni anno giungono direttamente alle private, vengono erogati sotto due diversi capitoli, il secondo dei quali prevede il parere della Conferenza delle Regioni e viene perciò erogato in un secondo momento. Per il 2015 Renzi ha stanziato nel primo capitolo per le paritarie 200 milioni di euro, contributi dunque erogati direttamente dallo Stato. Moretti ha illustrato anche la buona scuola del Governo, che prevede per la frequenza negli istituti paritari la possibilità di detrarre la spesa al 19% dell'IRPEF, fino a un massimo anno di 400 euro per alunno. Ma nel pomeriggio è arrivata la controrisposta dell'assessore al bilancio della Giunta Zaia. Abbiamo fatto un miracolo a fronte dei forti tagli romani. La Regione liquida a 21 milioni di euro a favore delle scuole paritarie del veleto. Abbiamo un'antenna con un modello dichiarato da 1000 Watt e invece troviamo i documenti che parlano di 14 Watt come una lampadina di casa. Ora spiegatemi com'è possibile che questa antenna abbia la stessa potenza di una lampadina a LED di casa. Dati che non coincidono, una situazione poco chiara è quell'antenna da 30 metri che è posizionata al centro della rotatoria all'incrocio tra via Battisti e via dei Colli, dà il benvenuto ad Abano Terme. Oggi è stato presentato un esposto in procura nel mirino del Movimento 5 Stelle, quella differenza di potenza, il mancato parere dell'ARPAV, i possibili effetti sulla salute dei cittadini. Abbiamo le persone che vivono qua di vicino e sono potenzialmente esposte a gravi pericoli per la salute. Da qui quindi l'esposto? Assolutamente, un esposto per fare luce. Ricade in un'area dove c'è una scuola, c'è la chiesa con la parrocchia, c'è un cinema e c'è la biblioteca e ci sono delle abitazioni, quindi secondo me questo non è un sito adatto. Quindi noi abbiamo 24 ore al giorno, giorno e notte, emissione di un campo magnetico che noi non conosciamo, assolutamente sconosciuto e di cui vorremmo avere qualche raguaglio. Un lavoro fatto in tutta fretta, denunciano i residenti. Per i grillini anche la storia di questa antenna può avere una chiave di lettura, diciamo diversa. Certo, purtroppo vediamo come ci sia un serpeggiante senso di corruzione. qui tra Abano e Montegrotto abbiamo visto indagini ed arrestati e pare che non siano cose personali, pare che ci sia un sistema. Lavoravano anche 13 ore al giorno per meno di 40 euro, niente ferie, nessun permesso, né turni di riposo. Cittadini indiani sfruttati come braccianti agricoli, costretti alla clandestinità, alloggiati in abitazioni fattiscenti per le quali pagavano fino a 250 euro al mese. Questo è il quadro emerso dall'indagine dei carabinieri, che ha portato ora il sequestro dell'azienda agricola Faverato di Correzzola. E' stata sequestrata l'intera azienda agricola, comprensiva dei relativi mezzi e delle strutture anche mobili ed immobili, per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro. L'indagine era partita nell'autunno scorso, a seguito del ferimento di un bracciante e il successivo arresto di quattro indiani. Uno degli arrestati era titolare di un'azienda agricola che impiegava la mano d'opera clandestina. Più di 30 gli immigrati che hanno testimoniato sopprusi e maltrattamenti, raccontando di aver pagato anche 8.500 euro per il loro viaggio della speranza. Giunti in Italia venivano fatti lavorare nei campi e costretti persino a pagare un obolo e connazionali tra 50 centesimi e un euro per ogni ora di lavoro. Situazione di ammassamento, quindi di fatto erano diverse vittime all'interno di una stessa camera e peraltro loro dovevano anche corrispondere delle somme mensili per il pagamento di quello che è una sorta di vitto alloggio. Secondo quanto accertato dai militari, i due fratelli Faverato, gestori dell'azienda, tra il 2013 e il 2014 avrebbero utilizzato decine di lavoratori indiani in varie mansioni agricole, pagandoli un terzo rispetto a quanto previsto dalla legge. Ai due vengono contestati, tra gli altri, i reati di sfruttamento del lavoro e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il gruppo Mariella Fino ha rinviato a giudizio Franco Birolo, il 49enne tabaccaio di Civedi Correzzola, che la notte tra il 25 e il 26 aprile del 2012 aveva ucciso il 23enne moldavo Igor Ursu, mentre, assieme a due complici, stavano razziando il suo negozio. A chiedere il processo nei confronti del tabaccaio è stato il pubblico ministero Benedetto Roberti, che a Birolo contesta il reato di eccesso colposo di legittima difesa. Secondo la perizia balistica usata dalla procura, il colpo mortale, esploso all'interno del negozio, era stato sparato da una distanza compresa tra i 50 e i 150 centimetri. Ho visto un'ombra che dietro di me stava scavalcando il bancone e me la sono trovata quasi addosso. È lì che ho sparato, ero vicinissimo, raccontò Birolo poco dopo i fatti. Igor Ursu morì sul posto, sulla piazza di Civedi Correzzola, proprio di fronte alla tabaccheria. Lavoro, contratti e occupazione sono questi i temi di cui si è parlato oggi a Padova in occasione dell'arrivo del ministro Poletti per un convegno dedicato al tema. Riflettori puntati sui dati positivi che arrivano sul fronte dei contratti di lavoro, merito anche delle nuove manovre come Jobs Act e sgravi fiscali alle aziende che assumono. Stiamo parlando di un dato qualitativo che ci dice una cosa che avevamo già visto in gennaio e febbraio e cioè che nei contratti di lavoro aumenta in maniera importante il numero dei contratti a tempo indeterminato mentre si riducono sostanzialmente tutte le altre tipologie contrattuali, in particolare le collaborazioni e progetto, ma tutte quante. Quindi almeno un obiettivo che stiamo perseguendo, che è quello di far cambiare qualitativamente il mercato del lavoro, pian piano si sta realizzando. Più cauto il ministro sui dati dell'occupazione. Sulla occupazione dobbiamo aspettare i dati dell'Istat perché l'Istat fa una valutazione non dei contratti ma di tutte le posizioni lavorative, dipendenti, indipendenti eccetera, che è un dato molto diverso e che appunto dà l'Istat. Intanto seppur a bassa voce esulta il Veneto, tra le prime regioni ad aver registrato un'impennata di assunzioni nei primi mesi dell'anno, ma ora i problemi da gestire sono altri, come quello legato all'arrivo dei profughi, contro il quale, nonostante le polemiche, si è sempre opposto il presidente Zaia, presente oggi all'incontro assieme al ministro. Si è votato alla conferenza unificata che segue, che è la sede nella quale i presidenti regioni e i semi sindaci hanno dato l'intesa al governo. Funziona da noi come presidenti che se uno dice di no e tutti gli altri dicono di sì, chi dice di no evita di votare perché altrimenti non viene fuori l'intesa. È un fatto di accordo tra gentiluomini. Per cui noi siamo andati alla conferenza dei presidenti, alla conferenza unificata e a tutte le conferenze di quel giorno allo Stato e Regioni e semplicemente non abbiamo votato il nostro no perché funziona così, ma non abbiamo mai detto di sì. Questa presa di coscienza di entrare nel profondo dell'animo in conseguenze di avvenimenti, di sensazioni, di disagi che cambiano una vita. La scrittrice padovana Edda Dallacosta ha tradotto le vicende della sua famiglia in due romanzi Le gru di carta, primo libro candidato alla cinquina del premio Campiello 2000 e oggi il seguito Le gru di carta volano. Storie d'amore, intrecci personali, situazioni di vera vita riscoperte, ricostruite e raccontate diventano il germe dal quale nascono le due fatiche letterarie. Partiamo dalla prima guerra di indipendenza, poi tutte le guerre, la guerra del 15 e del 18, la lotta partigiana, arriviamo ai nostri giorni. Ieri sera la presentazione nella splendida cornice di Sala Carmeli che custodisce oggi 22.000 libri nel cuore di Padova, uno scrigno magico intriso di arte e cultura che ha fatto da sfondo ai racconti della scrittrice. Diventa proprio l'espressione piena di come rifare vivere luoghi che nell'antichità avevano un uso, ma un uso che può essere seguito e continuare nel corso degli anni avendo amore per questi posti e amore per l'arte e la cultura. E poi la danza con le ballerine della Simple Company, la compagnia dell'Università di Padova che hanno dato vita alle protagoniste dei romanzi della scrittrice. Una passione per la scrittura e per la lettura che vuole essere anche un inno di speranza per i giovani. Sperano poco questi giovani, bisogna dare loro invece un input più creativo, più orgoglioso anche di se stessi. Tassi mai così bassi per aprire un mutuo e richieste sempre più numerose tra i veneti di poter avere una casa di proprietà. È il risultato dello studio elaborato da Friul Adria Credit Agricole che sulla base di un nuovo trend economico ha presentato oggi una innovativa soluzione di accesso al credito attraverso il tasso fisso. Solo nello scorso anno la richiesta di aprire un mutuo è aumentata del 37% e a Padova sono stati chiusi 426 mutui prima casa. Certamente le condizioni di mercato oggi sono molto più vantaggiose rispetto a qualche anno fa. Quindi stiamo assistendo ad una discesa molto marcata delle condizioni di mercato e questo sicuramente aiuterà le famiglie ad avere un accesso migliore al credito. Faccio un esempio pratico. Per un mutuo di 100.000 euro in 20 anni il cliente andrà a pagare una rata di 499 euro per i primi 24 mesi grazie a un tasso di ingresso dell'1,82 che rimarrà invariato per i primi due anni. Il mutuo è stato definito dagli stessi inventori Green perché comprende un accordo con Edison la fornitura per un anno gratuita di energia elettrica per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette. Inoltre la banca ha deciso di contribuire alla riqualificazione territoriale sostenendo delle iniziative di rimboschimento. Quindi grazie alla partnership con A0CO2 per ogni mutuo stipulato verrà piantato un albero in una zona soggetta a grave rischio di dissesto idrogeologico. L'obiettivo è seguire il corso del Po. Gli alberi saranno piantati da Alessandria in poi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di serata con Rete Veneta. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale. Grazie a tutti.